Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di questa meravigliosa e incredibile opera di Antrello da Messina che lui realizzò verso la fine della sua vita e che ebbe un grande successo perché la sua bottega dopo la sua morte ne realizzò altri quattro, la sua bottega fu diretta da Iocobello, il figlio ovviamente non raggiunsero mai il livello del maestro, però questo sta a significare quanto questa idea questa soluzione che lui adottò piacque ai suoi committenti. In primis vediamo che Antonello fa una svolta straordinaria rispetto ai ritratti degli Aceomo e anche rispetto alla pittura fiamminga a cui lui si è sempre ispirato perché decide prima di tutto di porre il volto del Cristo in un'angolatura diversa verso l'alto mentre sta guardando il padre e probabilmente con la bocca socchiusa sta pronunciando le parole intense, sofferenti e drammatiche della passione, padre perché mi hai abbandonato e quindi non è più un volto che guarda lo spettatore ma è un volto che si rivolge direttamente al cielo direttamente a Dio. Poi perché la decisione di concentrare l'attenzione solo ed esclusivamente sul volto mette Antonello di fronte alla sfida vinta in modo incredibile di realizzare con dei dettagli incredibili un volto cinematografico, cioè un volto nel quale lo spettatore si adagia ad osservare ogni piccolo segno, ogni piccolo dettaglio di quest'opera. Prima di tutto possiamo osservare la barbarada, la bocca socchiusa in cui si intravedono i denti, gli occhi rivolti al cielo, quindi anche il pathos, l'energia drammatica che è posta in questo volto e che ovviamente ha lo scopo di suscitare la stessa sensazione di drammaticità nello spettatore. La corona di spine incredibilmente realistica, i capelli sudati, le ciocche di capelli sudati attaccati alla fronte e poi per quanto sia possibile vedere le gocce di sangue e le lacrime che scendono dagli occhi. Quelle sono i dettagli più incredibili, oltre ovviamente alla complessità dell'opera, alla magnifica carica tragica che l'opera emana, ma questi dettagli delle lacrime in cui Antonello riesce a diversificare, a differenziare le lacrime dalle gocce di sangue è probabilmente una delle realizzazioni più alte nell'ambito della pittura quattrocentesca, ma insomma di tutta la storia della pittura, perché è di una precisione, di un realismo incredibili. Poi vediamo la corda attorno al collo, anche questo poi è un oggetto che era stato già ripreso da altri soggetti, sempre degli Aceomo, in cui la corda significava probabilmente il trascinamento di Gesù Cristo verso il luogo dove si è stato giudicato dalla folla o la corda che lo ha tenuto attaccato al palo dove è stato torturato davanti a Ponzio Pilato. Tutti i dettagli sono ovviamente santificati dalla luce che Antonello da Messina sa usare perfettamente e grazie alla quale non solo la scena prende un valore incredibile e raggiunge un livello straordinario di pittura, ma grazie alla luce lui riesce a specificare alcune parti del volto di Cristo che gli servono per mostrare ancora con più forza la sua capacità narrativa, perché qui ci troviamo di fronte ad una narrazione, cioè possiamo assistere a una parte della passione e sembra quasi che davanti a noi lui viva in quell'istante drammatico con tutta la forza di questa scena il momento più importante in cui rivolge al padre questa domanda perché mi ha abbandonato carica di dubbi anche su questa sofferenza che non riesce più a sostenere e per la quale vorrebbe finalmente che fosse portato a concluderla, a liberarsi di questa oppressione che sta vivendo. E' tutto ovviamente in un istante, quindi questo dipinto supera il cinema, supera la fotografia, supera qualsiasi cosa sia stata poi in seguito realizzata, è come se fosse un'opera definitiva perché qui c'è un fotogramma nel quale però c'è anche una incredibile narrativa della storia, del processo e della morte di Gesù Cristo. E' veramente una pittura straordinaria. Un dipinto meraviglioso che è esposto a Parigi, a Louvre e si può ammirare solamente lì. Le immagini non gli rendono probabilmente giustizia, però ovviamente tutto ciò che è ripetuto, tutto ciò che è una conseguenza di un'opera di tale livello non potrà mai raggiungere l'emozione di vederla dal vivo. Se volete avere altre informazioni su Antonio da Messina potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutta la sua opera.